Si va via da Caltanissetta e n'è da Grigento più che da ogni altra città della Sicilia, a dirlo sono i dati su cui si basa uno studio del Sole 24 Ore sullo spopolamento territoriale. Dopo aver cercato lavoro nella mia città, Caltanissetta, e in città della mia splendida terra, la Sicilia, mi sono sentita costretta a dover fare la valigia ad andare via per cercare stabilità e non essere schiacciata dal senso di frustrazione e di precarietà. Io e il mio fidanzato ci siamo trasferiti a Piacenza, dove adesso lavoro in un RSA e svolgo attività volte a promuovere il benessere psicologico per anziani, operatori e familiari. La rabbia che provo è tanta, perché ogni giorno dono passione, professionalità e competenza a una terra che per quanto mi abbia accolto e ne sono immensamente grata, non è la mia. La nostalgia la riverso nella mia scrittura, dono tante pagine alla mia terra e che come scriverò appunto nel prossimo libro, è la mia e mia vita dentro. Alla domanda perché ho lasciato la mia terra, rispondo con un po' di amarezza. Mi piacerebbe dire invece per scelta perché volevo nuove sfide, ma la verità non è questa. È che non c'erano le condizioni lavorative adeguate. Pagavo le tasse in una terra che non mi restituiva indietro alcun tipo di servizio. Le strade sono sempre rotte, le ferrovie sono malandate. Tutto questo chiaramente non può favorire il lavoro, anzi lo rallenta, quindi non ottimizza i processi lavorativi, non favorisce quindi la crescita di un'attività. Ho provato a mettermi in gioco, ho provato a fare del mio meglio, mi impegnavo moltissimo. Avevo delle associazioni, organizzavo tanti eventi culturali e artistici, ma questi non venivano neanche riconosciuti come lavoro. Perché purtroppo nella mia terra se ti occupi di un ambito creativo allora è un hobby, non può essere un lavoro. E quindi mi sono scontrata con tutta questa realtà, ne ho sofferto, poi alla fine mi sono detta Miriam anche tu hai diritto ad una vita vera. E quindi sono andata via. Si cercano maggiori opportunità di lavoro, servizi e qualità della vita. Ormai si emigra non solo verso il nord Italia. In molti scelgono di andare via per sempre dall'Italia preferendo l'estero, ad aumentare in modo determinante è il dato degli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti e all'estero, a lasciare l'isola giovani e uomini adulti con profili professionali ben definiti, che andranno così a sostenere l'economia di altri paesi. Sono in 20.000 i giovani nisseni andati via dal territorio della provincia di Caltanissetta, che sommandosi a quelli di Enne ed Agrigento, arrivano a 90.000 giovani delle tre province. Anche i pensionati fanno la valigia, preferendo paesi stranieri con minore pressione fiscale, con servizi più efficienti e costi di vita più bassi.